ciao ragazzi oggi vi faccio un rapido unboxing di un prodotto che ho appena installato sulla mia macchina ecco perché ci troviamo fuori che ritengo molto utile per un po tutti gli utenti questo caso sicuramente gli amici con le jeep e andiamo a vederlo meglio parliamo di un fare tino della rugger ridge a led 4 led qual è la sua caratteristica principale è dual row ovvero quando io accendo le luci di posizione in questo caso l'ho fatto con le luci di posizione o anche come do accendo la macchina questo fare tino qui si accende e ha una luce arancio molto bella ed è secondo me molto utile in quelle situazioni di scarsa visibilità e soprattutto quando andate a guidare magari in zone non molto illuminate chi viene dall'altra parte sicuramente vi noterà subito sono dei farettini come vi dicevo a 4 led con questa funzione dual row perché dual row perché all'interno dell'abitacolo noi abbiamo un tastino che ci permetterà invece di accendere quando abbiamo bisogno di tutta la potenza quindi si spegnerà la luce arancio e diventerà un led classico con la classica luce bianca dei led la potenza è molto elevata infatti quattro led hanno 900 lumen di potenza sono hanno una certificazione ip67 quindi sono completamente waterproof sono prodotti dalla rugger ridge quindi una ditta di cui siamo dealer ufficiali quindi sinonimo di ottimi prodotti garanzia e nient'altro ragazzi ve li consiglio magari abbinati a una staffettina in questo caso molto semplice per il montaggio ma ce ne sono in commercio di tantissimi tipi abbiamo anche poi sempre della rugger ridge abbiamo anche la doppia staffa qui che si monta sul montante in un posto perché ho questo questo roll bar abbiamo poi quella doppia staffettina che vi permette invece di installarne anche quattro vi aspetto sul sito io appena caricati ci vediamo ciao ragazzi ciao 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 ciao